Mi sono portato indietro dal South by Southwest un mese fa questo filmato. Questa è un'autostrada sotterranea che collega le città, evita il trattico in superficie, stabilizza la macchina, la porta è 200 all'ora con velocità stabilizzata, riduce a zero la possibilità di incidenti, ci lascia liberi di essere proprietari della mostra macchina per poi ritornare in superficie e fare quindi un Milano Roma comodamente al computer per poi utilizzare alla destinazione la nostra macchina personale.